Oltre 700 atleti in città per il secondo cross città di Arezzo in programma per domenica 18 febbraio, partenze d'arrivo previsto dal parcheggio Pietri. Si tratta dei campionati toscani di staffette di cross assolute e promozionali. Grande atletica ad Arezzo, è la prima grande manifestazione interregionale perché richiama atleti anche da altre regioni, Umbria, regioni del centro Italia. Ci sono atleti di livello nazionale che faranno la staffetta e quindi sarà una competizione tra società, quindi è un campionato di società all'interno della Toscana. Lo spettacolo è assicurato, quindi le staffette partiranno dopo le 11 e è un momento bellissimo dell'atletica perché lo sport è di squadra, quindi l'affiatamento, la capacità anche di capirsi, la tecnica. Tra gli atleti pronti a battersi per portare a casa la vittoria anche quelli dell'atletica Freerunners Arezzo. È una competizione regionale dove verranno tanti atleti di grandissimo livello, si cerca di poter fare una bella figura e di poter competere con tutti questi altri ragazzi. Sarà lungo 8 chilometri, ognuno di noi percorrerà 2 chilometri e si cerca di dare il massimo. È un percorso piatto dove si potrebbe correre bene e dare il massimo di noi stessi e arrivare in fondo. Siamo una squadra affiatata e grazie a loro tre più io cercheremo di vincere questa gara. Il nostro obiettivo sarà proprio di vincere.